Le migliori impostazioni, cioè le mie impostazioni e quindi le migliori impostazioni, si scherza ovviamente, è solo che suonerebbe veramente male nel titolo, le mie impostazioni, mentre le migliori impostazioni, parecchio clickbait, per il controller, in questo caso un DualSense normalissimo della Play 5, ma normalissimo no, perché ha i tasti dorsali montati da me e un control freak, trovate tutti i link in descrizione, volendo anche del pad che usavo prima per la Play 4, per la stagione 13 di Apex Legends. Chi dovete ringraziare per questo contenuto? Nico che è un co*****e porco zio e aveva il microfono spento quando ha fatto questa partita. E quindi sì, niente video Newcastle, nuovo main per oggi. Impostazioni di gioco ce ne sono poche di importanti, ma sono molto importanti, quindi voi che siete già là pronti a schippare questa parte di video per andare sulle sensibilità direttamente, se volete fatelo, complementi. Allora, faccio veloce, ve lo giuro, in questa scheda vi sottolino letteralmente solo le impostazioni più importanti, se volete le altre guardatele, ma sono completamente soggettive, cioè numero danni complessivo, io mi ci trovo bene, ma volendo potete mettere anche singolo quello che vi pare, ecco, è ad abitudine più che altro, quindi va bene. Cambio arma automatico quando scarica, sarebbe quell'impostazione per cui quando hai finito completamente i colpi di un'arma il gioco ti va in automatico sulla secondaria, assolutamente no, perché sennò si creano quelle situazioni in cui tu cambi l'arma perché ci sei abituato, il gioco te la cambia di nuovo riportandoti all'arma scarica. Meglio evitare, dovete essere voi in grado di sapere quando cambiare arma, evitate tutti i problemi e andate sul sicuro. Corsa automatica, io direi sì. Indicatore danni ricevuti anche qua personale, anzi no, qua non è personale, mettete entrambi perché avete più informazioni. Altre impostazioni fondamentali, subire danni causa l'uscita da menu creazione e casse della morte. Assolutamente no, perché sennò se vi sparano vi esce dalla cassa della morte e non potete cambiare l'armor, per dire. E per il resto qua sono tutte impostazioni superfule, cioè modalità streamer, modalità anonimo, prestazioni sarebbe il pannello con gli fps che mi chiedete spesso, quindi se volete sapere quanti fps fate, e va benissimo. Reticolo, io utilizzo quello predefinito, so che in molti lo usano verdolino, rosa, azzurro. Fate un po' quello che vi pare, il mio discorso è, se hanno messo il rosso di base, ci sarà un motivo. Cioè, non penso abbiano fatto una riunione in cui si sono detti, bella raga, di che colore facciamo il mirino? Boh, rosso sembra figo. Cioè, credo ci sia uno studio dietro, sarà il colore migliore, io comunque non vedo il motivo di cambiare. Modalità daltonismo utilizzata al 2% da persone effettivamente affette da daltonismo, e al 98% da persone che si sentono più pro player attivandola. Se volete fatelo, mai usata io. Andiamo alle cose succose, configurazione tassi. Come vi ho detto all'inizio, io ho un pad con i dorsali, quindi a questi tasti dorsali sono collegati dei tasti che stanno davanti. In particolare ho settato la cura, il cambio arma, il salto e la scivolata. Se avete i dorsali vi consiglio queste quattro cose settate, se ne avete due vi consiglio salto scivolata. Vedete abbassamento sulla freccetta sinistra, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma non mi abbasso effettivamente con la freccetta sinistra, ho il tasto settato sui dorsali. Detto ciò, se usate un pad normale vi consiglio assolutamente lottatore, che è esattamente uguale a predefinito come configurazione, quindi vi troverete bene. Unica differenza, l'abbassamento sta sull'R3 e sulla levetta a destra, il corpo a corpo sta sul cerchio. E questo vi permetterà principalmente di potervi abbassare senza staccare le dita dalle levette, quindi potete fare una cosa simile, ecco. Con la configurazione normale è praticamente impossibile. Se poi siete dei veri temerari ci sta anche Ninja, che probabilmente per il movement da pad di base è l'impostazione migliore. Però ecco, se arrivate da predefinito a lottatore vi abituate in boh due partite, a Ninja in boh due mesi. Allora, impostazione fondamentale, tasto per abbassarsi, sì no. Volendo potete anche usare mantieni, c'è una piccola differenza. Allora, se io tengo sì no e spammo il tasto per abbassarmi mentre sparo, succede questa cosa. Se io metto mantieni e faccio esattamente la stessa cosa, ecco il risultato, perché con mantieni non ti prende l'input intero dell'abbassamento ogni volta. Attenzione però perché anche mantieni ha i suoi vantaggi, in particolare se volete fare bunny hopping, che sarebbe questa cosa qua, con mantieni viene facilissimo perché tenete premuto il tasto dell'abbassamento, spammate il tasto del salto e viene fuori, mentre con sì no devi premere i due tasti insieme un po' più macchinoso. Questo non è un videoguida sul movement, quindi andiamo avanti. E va bene, tasto mira ovviamente va su mantieni, non ci sono storie. Tasto slot sopravvivenza. Qua ci sta molta gente che lo disattiva per poter fare le animazioni con il cunai vivrate o con gli altri heirloom. Ragazzi, io vi dico che molte volte vi salverà la partita poter buttare lo scudo termico direttamente senza dover andare nell'inventario. Quindi fate come vi pare. Ma io ve l'ho detto, zona morta tasti L2 R2. Qua è un discorso complicato perché io uso alta, utilizzavo alta perché prima avevo un pad che era letteralmente scassato e se non mettevo queste impostazioni mi sparava da solo. Praticamente la zona morta sarebbe il livello di forza che devi mettere su L2 R2, o meglio, dopo quanto si attivano. Cioè se tu hai una zona morta alta devi spingere di più i grilletti perché si attivino o perché inizino a sparare. Se hai una zona morta bassa basta una minima pressione e il colpo parte. E dicevo, io sono stato obbligato a mettere alta perché avevo il pad scassato. Adesso ho cambiato pad, il mio pad funziona bene, potrei tranquillamente mettere nessuna. Ma sto giocando lo stesso con zona morta alta. Non chiedetemi perché, mi ci trovo meglio. Sarà il fatto che magari l'arma ci mette un po' di più a sparare ma proprio quel millesimo di secondo che mi permette di controllare meglio il rinculo da lontano. O magari è un fatto psicologico, non lo so. Io comunque mi ci trovo. Velocità del cursore in linea di massima vi direi di mettere l'impostazione più alta che riuscite a controllare. Cioè se riuscite a metterla al massimo e riuscite comunque a fare armor swap, a cambiare l'armatura dentro le casse, insomma. Senza sbagliare va benissimo. Più siete veloci meglio è. Io la tengo a questo livello. E arriviamo alla mitica sensibilità. Sensibilità visuale, sensibilità visuale mirino. Allora, in linea di massima il consiglio mio principale è di non cambiare sensibilità troppo spesso. Ne mettete una, ci perdete tempo, vi ci abituate ma non continuate a cambiare. Perché se io provo una sensibilità per un giorno è normale che non mi ci trovi subito bene. E insomma, se la cambio subito di nuovo va a finire che non mi trovo bene neanche con l'altra commesso. Vado avanti così, cambio all'infinito, non ne trovo mai una giusta. La verità è che non esiste una sensibilità giusta, cioè io gioco con 5-4, ai tempi giocavo con 4-3, ho giocato con 4-4. Ovviamente ogni sensibilità ha i suoi pregi e i suoi difetti, in particolare con una sensibilità alta che comunque vi consiglio almeno un 4-5. E si parla della sensibilità visuale. Sarete più reattivi negli scontri da vicino, quindi è molto utile soprattutto con shotgun, SMG e robe varie. Mentre magari con sensibilità più basse siete più forti da lontano o meno da vicino. Però ecco, il succo del discorso è che potete comunque performare con una qualsiasi sensibilità, quindi ve ne scegliete una e basta cambiarla. In particolare io uso 5-4, quindi una sensibilità leggermente più bassa quando sto in mira per motivi ovvi. Cioè, non sono in mira, voglio una sensibilità più veloce per cambiare bersaglio velocemente, magari negli scontri ravvicinati, gente che si muove. Sono da lontano, voglio una sensibilità più lenta per aver maggior controllo del rinculo. Io uso anche le sensibilità per ottica e in particolare dal 2 per in su ho alzato di 1, quindi ho 5 invece che 4. Discorso molto facile, più è zoomato il mirino più vi sentirete lenti, quindi conviene alzare la sensibilità più sale il mirino. Ecco, volendo per i mirini 6, 8 e 10 potrei anche mettere un 6 di sensibilità per dire. Il fatto è che non uso questi mirini, quindi non avrebbe senso. Curva di risposta, io utilizzo classica, se volete potete provare lineare, sarete più avvantaggiati negli scontri da vicino, un po' meno da lontano, sarà più difficile sparare da tanto lontano. Raga, le altre tre impostazioni, alta velocità, mira eccellente e stabile, non esistono, va bene? Non esistono. Zona morta nessuna, zona morta piccola, vibrazione no, per favore non ci perdo tempo, comandi avanzati, non le utilizzo. Se volete, potete, avete più impostazioni, vi trovate quelle giuste per voi, però raga, cioè, detto sincero, ho 20.000 partite su Apex, non ho mai sentito il bisogno di andare oltre alle impostazioni di base. Potete performare al top tranquillamente. Luminosità sottovalutata, perché non c'è tanta gente che la alza, ma io vi consiglio quantomeno a tre quarti, se i vostri occhi reggono, mettetela anche al massimo, molto utile soprattutto negli spazi chiusi, magari gli angolini al buio, vedete meglio i nemici. Campo visivo, un qualsiasi valore da 100 a 110, io direi. Allora, io gioco con 100, ma è un fatto psicologico, cioè, ho sempre usato 100, mi sono sempre trovato bene, e se cambio mi sento strano, però in verità ho giocato per una settimana intera con 110 senza accorgermene, e appunto non me ne sono neanche accorto, quindi ci giocherei bene lo stesso, ma resto sul 100. E si va sull'audio, non è vero, non si va sull'audio, perché chi se ne frega delle impostazioni audio? Ragazzi, abbiamo finito, se il video vi è stato utile lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, e passate su Twitch così vedete dal vivo come utilizzo queste impostazioni. Mi chiedete altri consigli se ne avete bisogno, io ci sono e vi auguro una buona serata. Iscrivetevi al canale